Salve a tutti ragazzi e bentorni sul mio canale, oggi apriamo i pacquetti pokemon di nuovo 2 stavolta però non uno, quindi ho comprato questi qua nuovi che non so cosa saranno Non so cosa esce, è diverso, ok che culo Non si vede, non c'è un attimo, fatemi aggiustare cosa che non va bene Che da qua non troviamo niente Come cazzo si fa sto qua, vabbè così va bene Vedete bene le carte Vabbè signori ce ne siamo già spoilerati Siamo seri, non ho trovato niente Cioè c'è un pikachu Che schifo, ho trovato due olpi in un pack Vabbè, devo buttare nel cesso E ora abbiamo le vecchie glorie Che ho trovato il Caesar GX che cercavo alla prima bustina che ho aperto in queste Quindi ho pure un buon ricordo, non mi derudate Guarda che c'è un po' di cesso da dietro Quindi Apriamo Ok codice Uno, due, tre E poi No, c'è la non energia Ok Ok Vai Vai Grazie a tutti.